Nell'ambito del Sesto Comandamento è doveroso trattare come un fatto basilare due concetti che sono molto impopolari e che spesso sono equivocati o interpretati in maniera negativa o confusa, però per un dovere sia di riguardo alla conoscenza, un dovere della verità e anche chiedendo allo Spirito Santo che io possa in qualche maniera esprimermi chiaramente e oggi vorrei mettere sotto i vostri occhi due concetti molto importanti nella Bibbia ma che nella nostra società non vengono spesso considerati, conosciuti o anche a volte sono considerati negativamente non conoscendoli. Sono il concetto della purezza e il concetto della castità. In genere ci sono degli equivoci, tanto è delicato parlare di queste cose che spesso chi tratta questi argomenti è riluttante nell'affrontarli perché l'uditorio spesso non li percepisce alcune cose eppure le portiamo dentro. Intanto il Vangelo parla della purezza. Se vi ricordate nel discorso della montagna Gesù a un certo punto dice Ora, questo concetto di purezza è molto ampio, riguarda tutta la vita però trova un argomento importante anche riguardo all'ambito della sessualità e della genitalità che sono espressioni fondamentali dell'uomo. Vi ho detto l'altra volta che la sessualità non è solo un aspetto particolare della nostra vita ma riguarda tutta la personalità. Tanto è vero che se una persona ha un disturbo della personalità si ripercuote nell'uso della sessualità o della genitalità e se c'è un problema nell'uso della genitalità o della sessualità, questo poi si ripercuote nella personalità. In qualche maniera la sessualità vista come globalità dell'uomo maschile e femminile e la genitalità come esercizio degli organi genitali sono un dono di Dio infinito. Pensate che alla affettività, sessualità e genitalità il Signore ha voluto legare la nascita delle nuove creature quindi è una delle cose più importanti la nascita, no? È come se si partecipasse a Dio creatore Dio è creatore del cielo e della terra Quindi Dio creatore ha legato alla creazione di nuovi uomini proprio le caratteristiche soprattutto dell'affettività genitalità e sessualità Tante volte si staccano queste cose Ecco, se si vivesse la sessualità senza l'affettività in effetti o senza un progetto d'amore Siccome la sessualità e la genitalità sono concetti non assoluti significa che devono essere relativizzati a qualche altra cosa Quindi se la sessualità è legata all'amore vero produce certi frutti Se non è legata all'amore vero non produce quei frutti ma produce addirittura distruzione Quindi non si può parlare soltanto di sessualità affettività, genitalità senza capire che Dio le ha legate all'amore vero Ecco, chi vivesse queste cose senza interessarsi dell'amore vero Purtroppo, siccome noi uomini siamo anche feriti dai sette vizi capitali Ecco, una cosa tira l'altra, vedete? Bisogna vedere che concezione dell'uomo si ha Nella Bibbia, che è la rivelazione di Dio sulla storia, sull'uomo, sul senso della vita giustamente si dice che fin dai primi uomini purtroppo c'è stato uno scadimento a causa della ribellione a Dio che è il sommo bene e questa ribellione a Dio fin dai primi uomini che noi abbiamo chiamato nella Bibbia Adamo ed Eva perché sono nomi simbolici perché non è che si sa chi sono Ecco, fin dai primi uomini purtroppo noi abbiamo in qualche maniera vissuto lo scadimento della creazione di Dio ferita da queste scelte sbagliate che hanno dato spazio al male e poi alla morte Vi ricordo che i sette vizi capitali non sono un fatto facoltativo rientrano nel dogma c'è bisogno che ripeta che cos'è il dogma il dogma non è un muro sul quale sbattere il dogma è una rivelazione di Dio sicura per questo si chiama dogma come un pilastro ecco, vedete questo palazzo ha dei pilastri se voi togliete un dogma è come se toglieste un pilastro alla costruzione cioè di fatto crolla è una verità no, è una verità rivelata che si può dimostrare ma con un cammino teologico sì, diciamo con i doni dello Spirito Santo c'è anzi l'approfondimento dei dogmi addirittura i dogmi possono essere addirittura illuminati e illuminanti a poco a poco voi pensate che si arriva a un dogma dopo un percorso nello Spirito Santo perché Gesù ha detto ai suoi discepoli molte altre cose vorrei dirvi ma non ne potete portare il peso vi manderò lo Spirito Santo che vi condurrà alla verità tutta intera man mano che la storia continua lo Spirito Santo durante i secoli ha illuminato alcuni aspetti possiamo dire nascosti del mondo di Dio e del mondo dell'uomo e dell'opera di Dio man mano che c'è stata la certezza di queste verità rivelate allora si mette un punto fermo dicendo questo è un punto irrinunciabile faccio un esempio nei primi secoli era talmente nuova la rivelazione della Santissima Trinità che ci sono voluti tre secoli e mezzo per capire chi erano queste tre persone perché all'inizio sembrava il gioco delle tre carte no? C che questo quello l'altro su C su 1 quanto su ecco poi a poco a poco man mano che i secoli passavano l'approfondimento teologico la vita dei Santi ha fatto capire che sono tre persone ecco quindi non sono una persona sono tre persone il Padre il Figlio e lo Spirito ma uniti in una concordia in un amore da formare una sola realtà divina quindi non sono tre persone in una persona perché sarebbe un assurdo sono tre persone in un'unica sostanza divina in un'unica realtà divina il che ha cambiato la concezione della vita questo la concezione di Dio per esempio da quando c'è stato il dogma della Santissima Trinità chi è Dio si è capito che non era non era come si pensava prima perché Dio non è un monarca prima si pensava che Dio fosse un re un monarca poi si capì che invece Dio è una famiglia che il ruolo di Dio è il Padre addirittura San Paolo dice i papà umani prendono la loro paternità da Dio Padre cioè il primo padre è Dio quindi pensate come e dire Padre significa relazione col Figlio e colui che genera il Figlio è lo Spirito Santo tanto per una icona una icona della una immagine cioè della Santissima Trinità è la Sacra Famiglia di Nazareth no il Padre possiamo dire espresso da San Giuseppe lo Spirito Santo espresso da Maria Vergine piena di Spirito Santo e Gesù è il Figlio Amato questa struttura è la realtà di Dio pensate un Dio famiglia scusate che cosa può volere un Dio famiglia che nel mondo si diventi fratelli è giusto è quasi logico no se Dio Dio famiglia che tu non lo conoscevi che era una famiglia pensavano che fosse addirittura prima di Abramo si pensava che fossero gli astri Dio no il sole la luna le stelle poi altre realtà naturali poi a un certo punto Dio interviene e dice no se vi ricordate Esodo 3 14 quando Mosè vede un roveto che arde e resta verde cioè un fuoco che brucia e non consuma che è una cosa un po' strana allora si avvicina e allora il Signore per la prima volta si rivela pienamente ad Abramo sei secoli prima si era rivelato in maniera un po' più rozza vedete nei secoli noi siamo con Abramo gli studiosi dicono attorno diciottesimo secolo prima di Gesù Mosè nel tredicesimo secolo voi direte ma ci fossero cinque secole il tempo passa ecco il tempo passa e Dio nel tempo nella storia si rivela si va rivelando nella storia questo è importante fino a quando poi Gesù Cristo per la prima volta spiazza tutti e dice chi vede me vede il Padre prima che Abramo fosse vi ricordate io sono che è l'espressione che Dio aveva rivelato a Mosè chi sei gli disse Mosè chi sei che parli e Dio disse io sono la traduzione un poco all'antica è io sono colui che è Yahweh ecco vi ho detto che c'è l'equivoco che prima della seconda guerra mondiale prima del ritrovamento dei reperti archeologici in Akumran vicino al Mar Morto si credeva che le lettere ebraiche le quattro lettere ebraiche si leggessero Yehawah con queste vocali dopo il ritrovamento del Mar Morto perché un pastorello sentì che una pietra rotolando in una caverna che era a scendere faceva un suono come se fosse una un suono amplificato e allora si introdusse in queste grotte e scoprì uno dei più grandi giacimenti di manoscritti dell'Antico Testamento messi dentro delle anfore di Creta quello diede un contributo fondamentale ecco alla fine degli anni 40 un contributo fondamentale per la interpretazione della Bibbia per la traduzione della Bibbia per capire il mondo biblico allora da allora in poi non si lesse più le quattro lettere con cui si era rivelato Dio Yehawah da cui Jehoah no? in italiano ma da allora in poi si capì che gli ebrei dicevano Yahweh al contrario con la E al finale ecco allora in quel caso si fece un passo avanti enorme quindi si va di passi avanti in passi avanti passi avanti e passi avanti ora Gesù Cristo lui stesso disse che la sua rivelazione è fondamentale senza di me senza di me non potete arrivare alla verità tutta intera per questo noi sapete anche nell'interpretare l'uomo la sessualità l'uso dell'affettività noi sappiamo che come uomini non abbiamo da soli questa possibilità di capire tutta la verità abbiamo bisogno di ricevere la luce di Dio e Gesù ci dice a proposito del nostro argomento che beati i puri di cuore perché vedranno Dio quando è che uno ha il cuore puro teoricamente è facile perché il cuore puro significa non avere un doppio fine è giusto puro significa che c'è un unico obiettivo cioè se io ti faccio del bene voglio il tuo bene senza un mio tornaconto perché se io per esempio ti amo ti voglio bene per avere un mio tornaconto già io ho un doppio fine ci siamo su per giù in generale quindi voi capite quanta equivoca la vita perché chi può arrivare subito ad avere un cuore puro vi accorgete voi come ci restiamo male quando noi facciamo del bene a una persona e quella persona neanche ci ringrazia ma non solo ma che una ringrazia ci dire calci in faccia allora una persona in quel momento deve dire ma io che mi aspettavo il bene dice Gesù vi ricordate lo devi fare senza desiderare richiedere un grazie anzi se vuoi avere il cuore puro come Dio tu fai il bene senza che la destra sappia quello che fa la sinistra quindi è una cosa un po' delicata la purezza del cuore ora se tanto è vero che anticamente nella traduzione latina della Bibbia si diceva omnia munda mundis significa tutte le cose omnia sono pure per chi è puro quindi se una persona ha la purezza del cuore qualsiasi cosa la fa senza un tornaconto con purezza di cuore ecco voi vi accorgete che invece il nostro cuore va purificato va purificato ecco come si purifica un cuore certo la penitenza ci vuole a volte per esempio limitare le proprie facoltà cercare di orientarle all'amore cercare anche di frenare gli istinti egoistici per noi fa parte della scetica normale ma se una persona si crede puro crede di essere sai l'espressione che è molto usata oggi vai dove ti porta il cuore bisogna vedere che cuore è se è ma se Teresa è una cosa se è Renzi è un'altra cosa se è Nausio è un'altra cosa ognuno bisogna vedere che cuore ha cioè non si può dire vai dove ti porta il cuore perché tanto per per dirvelo Hitler è andato voleva andare dove lo portava il cuore Hitler i grandi dittatori cercano di andare o sono andati dove li portava il cuore ma siccome l'uomo è fatto di grano e di zizzania Gesù ci chiede di prendere coscienza che abbiamo una trave nell'occhio e quindi tutti abbiamo bisogno non di dare per scontato che siamo puri ma di dire che noi abbiamo bisogno di purificarci dall'egoismo perché spesso siamo ipocriti e chiamiamo anche amore l'egoismo ve l'ho detto io tanti anni fa quando ero giovane ero da poco sacerdote ho incontrato una signora a Napoli che suo marito era un violento e ci disse ma suo marito non l'ha mai amata no mi disse mio marito mi ama ma a modo suo a modo suo sì cioè qualche giorno ci diceva ti voglio bene qualche giorno ci girava la testa e ci dava e finiva a modo suo ora in balia del nostro io la cosa sapete non è sicura tutti potremmo dire di amare ma a modo nostro però noi non siamo la verità non so se vi ricordate i sette vizi capitali è giusto che io lo ripeta no superbia avarizia lussuria ira gola invidia e acidia queste sette vizi capitali insieme alla paura sono purtroppo una realtà che tutti abbiamo non c'è un uomo questo è il dogma la scoperta no in questo Sant'Agostino è stato un maestro Sant'Agostino ha approfondito proprio questo ha detto una frase che se io la dicessi in giro penso che mi prenderebbero pazzo Sant'Agostino diceva che se non intervenisse la grazia cioè l'amore di Dio noi saremmo gente dannata perché nonostante desideriamo tutti amare tutti affoghiamo nei nostri egoismi tutti siamo egoisti ora una persona che è egoista e non lo sa o non lo considera sapete si comporta in un certo modo come se fosse normale una persona invece che capisce la verità vi ricordate quando Gesù disse se tu non togliessi la trave dall'occhio tuo tu non potresti vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro cioè i miei occhi in questo momento io come vi vedo a voi devo tener conto dei miei sette vizi capitale e devo cercare di svezzare la mia vita dai sette vizi capitale perché se io invece parlassi a voi come se fossi già un puro di cuore potrei ingannarmi e ingannare voi diverso è che uno ha coscienza e dice signore io cerco di fare quello che posso per amare però mi rendo conto che tante volte ci resto male altre volte per esempio senza che io me ne accorga magari coltivo un po' me stesso voi pensate per esempio certe volte ci fa piacere che le persone ci diano ragione ci fa piacere che le persone considerino bene la nostra vita voi pensate quante volte succede chi è sposato sa bene questo a volte si odia il coniuge perché il coniuge ha il coraggio di dirti quello che gli amici non ti dicono può succedere o no che dite non sempre gli amici ti dicono una cosa ma siccome c'è c'è confidenza tante volte un coniuge gli scappa dalla bocca qualcosa che ti ferisce e se uno non è umile va a finire che la reazione qual è la rabbia l'odio voi direte voi lo sapete può succedere tra i coniugi non dobbiamo essere ipocriti può succedere con chiunque perché la verità fa male a volte per accettare la verità bisogna perché vedete certe volte una verità possiamo dire un po' scomoda ci scarnifica dentro e a proposito di questo san paolo in 1 corinzi 13 dice che la carità si compiace della verità guardate che bel parallelo la carità vera si compiace della verità faccio un esempio mettete che io mi facessi prendere dalla foga mentre parlo con una persona con un mio amico lui è di un partito io ho segnato un'aus lui è di una squadra io ho segnato un'altra a un certo punto io porto avanti la mia tesi e lui si scontra con me quindi facciamo scintille così poi manco ne salutiamo ognuno se ne va a casa io capisco che io capisco a casa che lui aveva ragione mettete che per esempio a sera dico vabbè oggi mi sciarriai questa persona questo amico però onestamente siccome io ho preso dalla foga non ho riflettuto su quello che diceva ma ora mente fredda mi accorgo di aver sbagliato se io volessi essere nella verità vera ci avesse a telefonare e ci avesse a dire mi sono accorto che avevo ragione mi compiaccio di aver capito che avevo torto perché uno si deve compiacere della verità pure quando è scomoda non so se riesco a farvi capire in certe volte è scomoda ammettere una verità una persona per esempio mi dice una cosa che mi ferisce poi dopo che io due ore non dormo a un certo punto a un certo punto io mi accorgo che in fondo quello che mi ha detto quella persona anche se mi ha ferito mi ha toccato nella mia piaga faccio un esempio se io non avesse una piaga qua uno mi infrunta mi tocca io non mi faccio niente ma siccome quella persona mi ha toccato dove ho una piaga subito mi sono risentito perché sapete se io non ho una piaga anche se una persona mi dice una cosa dico a me non mi appartiene questa cosa è giusto ecco vi dico una cosa scema che voi direte è normale per te se una persona mi dice a me una calunnia fra felice tu sei attaccato ai sordi io mi metto a ridere perché dico a me non mi ha fregato mai niente né prima né manco ora perché sono così ma se mi toccasse in un punto dove io ho già una ferita che so che veramente la soffro io subito sapete mi innervosisco e reagisci male perché ho la ferita quindi certe volte sapete siccome la lingua è l'arma più precisa perché la lingua non sbaglia mai il bersaglio una pistola può sbagliare il bersaglio ma la lingua tocca sempre nel punto giusto certe volte basta una parola che tu non c'è bisogno di essere cassus clay a uno vietto in terra con una parola se lo colpisci nel punto più debole una parola è capace che ti taglia le gambe allora vuol dire che lì io ho un problema a proposito di purezza del cuore non sono puro di cuore ora la vergogna il dovere per esempio se una persona deve verificare la sua vita ma io voglio essere sincero con me stesso perché è brutto c'è scritto nella Bibbia illudere se stessi l'uomo illuso è l'uomo che nella Bibbia è infelice e addirittura non si rende conto di essere preda del maligno vi ricordate Gesù che cosa disse ai farisei voi siete ciechi ma non ve ne accorgete credete di vedere ma non vedete il bene perché loro vedevano solo i loro interessi quindi loro si illudevano di servire Dio e arriva Gesù che è la verità e ci dice in realtà voi siete figli del demonio pensate anche nell'Apocalisse c'è scritto che in una chiesa medio orientale di allora lo spirito disse in quella chiesa si credono miei discepoli in realtà servono il demonio pensate che illusione uno prega è convinto di parlare con Dio e in realtà sta parlando col demonio è una cosa terribile la verità invece dice Giovanni 8 vi renderà liberi allora il giorno in cui io capisco di essere un'ipocrita è un giorno doloroso però almeno ho capito di essere un'ipocrita perché tanta gente è ipocrita e si sente sana tanta gente è malata nell'anima tanta gente parla di amore in realtà è egoista desidera amare in realtà segue la strada opposta che è quello del proprio tornaconto ora io non so se una persona desidera la verità sapete Gesù si compiace se una persona desidera la verità ma se una persona in fondo ha paura della verità gli conviene crearsi un mondo suo gli conviene crearsi una sua concezione se io gli chiedessi chi sei tu quella persona mettete che mi esprime quello che desidera essere ecco io sono così sono così sono colì sono colì ma ma se una persona dicesse signore chi sei tu chi sono io fammi capire nella vita pratica quali sono le mie contraddizioni fammi capire dove sbaglio fammi capire dove non sono coerente sapete è un lavoro molto profondo però poi sapete tutta la vita ne beneficia perché poi omni amunda mundis quando una persona si purifica poi tutto diventa puro quindi nel campo della sessualità è inutile parlare della sessualità se prima non si parla di quale intenzione c'è quale visione della vita c'è nel vivere la sessualità perché ognuno vivendola a modo suo , strumentalizza l'affettività la sessualità l'altra persona la genitalità a quello che gli piace a quello che vuole a quello che gli gradisce in effetti la visione della Bibbia che ci dice Gesù è totalmente diversa noi al servizio dell'amore noi possiamo dire cercatori della verità noi che ci compiaciamo del fatto di dire io non voglio essere un egoista camuffato non voglio essere una persona che dice ti amo in realtà strumentalizzo l'altra persona per me e quindi quando i cose non vanno come dico io poi non vi dovete non vi dovete stupire che in una società dove si propaganda l'autogestione di tutto fai quello che vuoi fai quello che vuoi ognuno ha il diritto di gestirsi la vita a modo suo ognuno può fare quello che gli dice il cuore a un certo punto le persone più egoiste ci vuole niente quando tu gli neghi una cosa quello diventa un violento è auso che ti brucia le che sei zitta ti brucia qualsiasi cosa perché perché poi dominare gli istinti non è che si può da un giorno all'altro vedete non è che una persona il dominio di se stessi che è uno dei frutti dello spirito gara di 5.22 si arriva subito voi vedete noi non sappiamo dominare noi stessi noi spesso siamo in balia dei nostri istinti l'istinto per esempio una persona ha anche un istinto generoso ma se non c'è un criterio anche l'istinto di generosità può essere un problema vedete che guardate con l'istinto di generosità c'è una persona che per esempio con gli amici si spende tutte cose e poi non ci restano i soldi per pagare i bulletti perché è generoso con gli amici si trovano assieme non ti preoccupare sai c'è gente buona di cuore che si trova un ristorante no pago io pago io San Francesco per esempio diceva che lui era così prima dei 24 anni San Francesco diceva siccome era ricco e suo padre ci dava i sordi San Francesco diceva io facevo feste e pagavo sempre io certo ci facevano l'applausi tutti così vi ricordate il figlio del prodigo il figlio del prodigo suo padre ci dava i sordi e chi ha speso tutto la generosità non è una virtù certo che è una virtù ma se è senza criterio non so se riesco a farvi capire tutto è relativo al bene cioè se io assolutizzo gli amici a scapito del mio dovere va a finire che non faccio il mio dovere per stare con gli amici non so se riesco a farvi capire anche una virtù anche l'intelligenza mettete che una persona è veramente intelligente però non è solo intelligente è anche egoista sfrutta la sua intelligenza per speculare sapete i grandi speculatori spesso sono menti molto lucide ma più di uno per fissa a tutti e allora a che serve l'intelligenza ogni cosa che Dio ha creato non è assoluta cioè può essere bene e male a secondo di come si usa quindi pensate la bellezza fisica la bellezza fisica sicuramente è un dono di Dio ci sono delle persone che hanno una bellezza fisica sia uomini che donne che sono straordinari non hanno un difetto fisico però se si utilizza male la bellezza fisica può diventare uno strumento anche di corruzione può essere uno strumento di che ti posso dire per pigliare per fissa all'auce uno strumento per per pavoneggiarsi ogni cosa nella nell'ottica cristiana ogni cosa bisogna vedere come si usa vi scandalizzate se vi dico se se si mettesse l'amore al primo posto a volte anche tra due coniugi un periodo di castità può addirittura alimentarli nell'amore vero mettete che per un periodo due coniugi a proposito di sessualità non sono nelle condizioni di di unirsi per fare l'amore se sono persone che si vogliono bene possono esprimersi l'amore con molta tenerezza con una giornata di affetto con tante delicatezze proprio perché non possono unirsi per un problema di fisico per un problema che vi posso dire medico qualsiasi problema se si vogliono bene loro possono esprimere l'amore anche in una castità perché perché si vogliono bene anche come si salutano come si prendono per mano anche come discutono come si ascoltano come si esprimono un affetto una carezza voi vi scandalizzate se dico questo perché se io lo dico fuori mi piglio uno pescemo perché oggi come oggi molti hanno l'impressione che solo la genitalità può esprimere l'amore vero ma vedete che la genitalità può esprimere anche l'egoismo vero perché bisogna vedere che lo comporti nel cervello come la valuti una persona per questo la morale cristiana non è una morale che si può capire se non si capisce il senso della vita che ci esprime Gesù Gesù è una persona che ha fatto capire che noi non ci realizziamo perché c'è la strada solo della genitalità ma Gesù fu il primo che disse che lui non si sposava per il regno dei cieli chi lascia casa famiglia tutto per il regno di Dio perché c'è un amore più grande allora anche il sacrificio che il Signore chiede che ha fatto lui e che chiede a noi di sacrificare ogni cosa per edificare possiamo dire l'umanità per servire gli altri per dedicarsi a tutti rinunciando a se stessi disse Gesù questo poi produce cento volte tanto e la vita è eterna quindi è molto importante per noi fratelli e sorelle guardare la purezza del cuore come un modo serio di capire come poi gestire la vita ecco perché come mai per esempio due persone innamorate poi dopo che si sposano dopo si è miso un anno se lassano che cosa è venuto o meno non c'era amore prima c'era amore ma evidentemente sono emerse delle problematiche che li hanno messi l'uno contro l'altro è giusto può essere che quelle problematiche sono sorte per far capire qual era la loro purificazione voi volete dire di no così è i guai non sorgono dice il Signore le croci i guai i problemi non sorgono per distruggerci nel piano di Dio servono per insegnarci ad amare a purificarci io capisco che molte persone non l'accettano questo non si tratta solo di accettare Gesù che esiste ma Gesù maestro e Gesù maestro ci dice che se una persona non sa prendere la sua croce non può realizzare il regno dell'amore il regno di Dio voi pensate per esempio c'è sempre una dimensione di sofferenza per amare un'altra persona a che è dovuta alla mancanza di purificazione cioè due persone che si mettono insieme anche due amici due amici per portare avanti la loro amicizia devono anche sapersi purificare dagli egoismi perdonare a vicenda per gli errori che fanno altrimenti l'amicizia non va avanti non solo la coniugalità ora il fatto di doversi purificare è fondamentale perché non vi dovete stupire che la Madonna a Meggiugorie ma come prima a Siracusa prima ancora a Fatima prima ancora a Lourdes aveva detto che se non si fa penitenza che è una purificazione in effetti è difficile che una persona ami veramente gli altri per questo riconoscere che abbiamo bisogno di purificare la mente da tutto ciò che gira attorno all'io non gira attorno al Dio all'amore Dio è l'amore tutto quello che gira attorno al nostro io è contrario all'amore vero il nostro io è la prima cosa che Gesù ci chiede a cui rinunciare vi ricordate Matteo capitolo 16 chi vuole essere mio discepolo rinneghi il proprio io egoismo egocentrismo poi prenda la sua croce ogni giorno perché ogni giorno ha la sua pena dice Gesù e poi su questa strada imparerà ad amare figuratevi se i cristiani hanno voglia di rinnegare il proprio io di pigliare la croce ogni giorno e di seguire Gesù per questo Gesù dice molte sono le persone che scelgono la strada larga della perdizione e poche sono le persone che percorrono la strada stretta della salvezza quindi anche nella morale sessuale il Signore ha la stessa logica della morale in generale stai attento perché io ti ho dato tanto ma tu come lo usi cerca di imparare ad amare veramente di rispettare l'altro di dargli la dignità che ha di vivere in funzione del bene dell'altro sapete non è facile neanche per le mamme vedete che è facile dico in genere si dice la mamma è per antonomasia la persona che ama di più ma una mamma pure si deve svezzare dai figli se no diventa una soggera quindi anche la mamma deve dire vi ricordate che certe volte Gesù anche come parlò con sua madre quando disse quando gli dissero beato il seno che ti ha allattato beato il ventre che ti ha portato e Gesù disse beati piuttosto coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica ecco ora è importante che la madonna si sia adeguata anche quando ha 12 anni vedete è anche un po' ironico il fatto che Gesù si perde per tre giorni che sarebbe anche oggi una catastrofe per ciascuna famiglia no? per tre giorni un figlio a 12 anni non sai un ne si ma dopo tre giorni la madonna manco san giuseppe non parlò proprio di san giuseppe c'è scritto che la madonna vide Gesù lo ritrovò e ci disse figlio mio perché hai fatto questo? Gesù non fu tanto tenero ci disse ma perché mi cercavate? ma come come ti cercavamo? e avevo sei giorni che non ci si tu immagini un figlio che dopo sei giorni che cercate appena gli dite ma perché hai fatto questo? che non vi risponde e perché mi cerchi? non sapevate che io sono in questo mondo per fare la volontà del padre mio e quindi altro che purificazione infatti c'è scritto che Maria e Giuseppe non capirono questo rimprovero non capirono però la madonna meditava nel suo cuore e noi diciamo metabolizzava sta parola di Gesù ora mi sembra importante che di collegare a questo concetto fondamentale della purezza ecco io vi pregherei non so se voi avete il coraggio o se io ho il coraggio quando siamo soli davanti a Dio di dire Signore io non so se il mio cuore è puro cerca l'amore vero oppure sono sono molto compromesso con i miei egoismi con il mio tornaconto con i miei interessi se prevalgono queste cose ecco di dire Signore purificami vi ricordate quel salmo purifica mio Signore e sarò più bianco della neve il mio peccato mi sta sempre davanti liberami da ogni peccato purifica la mia anima da ogni da ogni forma di egoismo capisco che è un questo che sto dicendo è possiamo dire anacronistico rispetto alla società cioè parlare di purezza in questa società sembra ridicolo perché ognuno c'è l'esatto contrario è come se si dicesse ogni uomo si deve realizzare se realizza il proprio io io chi è rampante chi è capace chi è un attimo alimentando il proprio io dice la Bibbia tu puoi anche illuderti che sei protagonista in realtà sei vittima di te stesso pensate che cosa tragica uno che si sente sotto un leone alla fine si accorge che è vittima del proprio io anche perché il demonio quando vede che una persona è un po' egocentrica il demonio lo alimenta c'è una corda sapete lo fa sentire lo fa sentire perché lo pompa ancora di più ci fa succedere cose che lo gratificano così il proprio io si espande il proprio io 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 a un certo punto però questo io crolla non ce la fa non so piglia batoste dalla vita succede qualsiasi cosa dice Gesù è come una casa sulla sabbia prima o poi crolla e quando crolla questo mito è difficile l'altro concetto collegato è un concetto la castità intanto castità non significa non uso della genitalità significa invece retto uso della castità della genitalità cioè la persona casta non è quella che non non ama la sessualità la persona casta è quella che ha un retto uso che riesce a gestire la sua genitalità secondo la carità vera il progetto d'amore per cui castità nella Bibbia nella teologia è la capacità che la propria affettività la propria sessualità la propria genitalità sia effettivamente gestita per quell'amore che Dio ha creato e che ha rivelato quindi se una persona per esempio non sa amare ma non ha non ha per esempio la classica scusate ora vi metterete a ridere la classica signorina acida pensate che una volta un pompiere amico mio mi disse dice parcia ho dovuto dare una sberla a una signorina perché ci fu un'inondazione io arrivai con il canotto e chissà restò da dice che era già due onna che era là io arrivo col canotto ci dico signorina vieni no mi disse non mi ha toccato nessun uomo nemmai io non sapevo che doveva fare dice ma dico ma è cretina chissà mi disse ma io ho insistito dice signorina venga perché c'è lei in pericolo di vita no io non mi farò toccare da nessun uomo nella mia vita non mi ha toccato nessun uomo mi disse ci deve essere due scopole ma carregare in corda ma votare certo ci disse ma chissà giustamente questo concetto di castità di purezza possiamo dire acida e possiamo dire anche un po' nevrotica non è quello che vuole signore giustamente cioè la purezza non significa che una persona è aspra acida non sa amare ma vi ho detto è legata la vera purezza la vera castità è legata alla carità la vera quindi se una persona per esempio non sa amare col cuore può essere fisicamente illibato ma non è nella volontà di Dio che se ne deve fare il signore di una persona che odia la sessualità quando ha creato un signore la sessualità che c'entra tutto quello che ha fatto Dio è buono è l'uso nostro che deve orientare all'amore o anche se l'umanità per esempio è ferita deviata perché purtroppo la natura umana può anche essere a causa dei sette vizi capitali anche compromessa con l'egoismo col male allora l'amore di Dio risana la natura e la eleva all'amore ma mai il signore se voi vedete Gesù quando parlò della sessualità quando parlò dei rapporti umani non parlò mai in senso negativo mai mai neanche quando parlò con la prostituta il signore è sempre una persona che intanto valuta le persone anche i peccatori con la loro dignità di uomini di figli di Dio e poi mai il signore si è scagliato contro la dimensione sessuale genitale affettiva mai anzi anzi il signore fu una persona amabile è stata una persona che ha veramente figuratevi che in Luca capitolo 8 San Luca che era pagano sottolinea che Gesù scandalizzò tutti perché aveva dato un ruolo alle donne pensate 2000 anni fa se voi vedete Luca capitolo 8 c'è scritto che Gesù lo seguivano molte donne il che per gli ebrei non era un vanto per gli ebrei era anzi una vergogna che Gesù dava troppo spazio alle donne perché la concezione ebraica era che le donne non avevano neanche la possibilità di parlare in assemblea voi pensate che a causa della circoncisione che è un segno sul membro maschile le donne di per sé non facevano parte del popolo di Dio le donne potevano far parte del popolo di Dio perché si associavano agli uomini è una concezione simile a quella degli attuali musulmani c'è una concezione in cui la donna era un essere costitutivamente inferiore fu Gesù che diede dignità alla donna addirittura voi pensate in un ambito strettamente ebraico Maria Santissima Maria Santissima è collocata al di sopra di ogni creatura umana al di sopra di ogni creatura umana maschi e femmine cioè la creatura più perfetta è una donna la creatura più perfetta non un uomo Gesù è Dio fatto uomo ma delle creature quella più vicina a Dio è una donna e questo è avvenuto in un ambiente maschilista quindi c'è da riflettere molto sapete e poi è bello il fatto che la Madonna la purezza della Madonna non è mai una cosa sapete che rifiuta la coniugalità mai mai la Madonna è sempre una donna che nella spiritualità ha sempre aiutato i coniugi a vivere bene la loro sessualità cioè a viverla all'interno di un progetto di amore in cui io mi prendo le mie responsabilità e io sapete per noi dire a una persona davanti a Dio io nella buona e nella cattiva sorte nella salute e nella malattia io prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita per noi prima di pronunciare queste cose bisogna riflettere molto perché se una persona non è sicura dei fatti suoi crolla questo è un impegno per la vita anche perché questo è iscritto nel cuore dell'uomo nessuno dice a un'altra persona ti amo al 95% ti dovresti accontentare che dite tu dice a un'altra persona ti amo al 95% non ti basta il 95% no perché ognuno il 95% ci pisa perché l'amore vuole tutto cioè una persona che ama sente il bisogno di dire di farsi dire ti amo con tutto il cuore ti amo con tutta la mia vita questa totalità capito se una persona non è preparata certe volte tanta gente viene al matrimonio senza preparazione e sapete se la piglia non ha male quando noi diciamo guarda è meglio che non ti sposi in chiesa non ti meritare in chiesa per ora per ora vai avanti come credi più opportuno però non sei in grado di prenderti una responsabilità del genere cioè nel nome di un amore assoluto che è Dio amare un'altra persona per tutta la vita prima cerca di verificare di capire solo che da noi c'è la tradizione ancora è un po' limitata rispetto al passato ma ancora c'è di persone che si vogliono sposare in chiesa perché in effetti sposandosi in chiesa c'è una certa anche che vi posso dire condizione sociale di di perbenismo ma come puoi dire siamo maledati in chiesa ufficialmente così però poi se non si è preparati la cosa comincia a diventare pesante per questo per questo poi il papa ultimamente sta cercando di riparare come puoi dire cerchiamo come aiutare le persone che si sono sposate in chiesa ma che non erano preparate però sono persone buone hanno fatto un errore però ora se ci sono nelle condizioni di avere un matrimonio che non si sa se è valido se non è valido credo che è un me che non è magari si sono avvicinate a Dio dopo che si è maledato in chiesa ma non si dovevano sposare in chiesa voi pensate che quando ho studiato teologia negli anni 80 il professor Senofonte posso fare il nome perché faceva lezioni lui diceva professore del diritto canonico negli anni 80 quindi cent'anni fa se può dire ci diceva a noi guardate che secondo me l'80% della gente che si è sposa in chiesa ha il matrimonio sostanzialmente invalido non è valido perché perché non sanno che sui sacramente non sanno che cos'è l'unità matrimoniale non sanno che cos'è l'amore di Dio non si immagino manco quello che cosa significa dare la vita a un'altra persona come vuole Gesù per questo oggi ho voluto sottolineare l'aspetto della purezza del cuore ecco io non so fino a che punto ciascuno di voi di noi io ci ho riflettuto tante volte per tanto tempo giustamente per il tipo di lavoro che faccio di ministero che faccio su che cosa significa avere il cuore puro cioè non avere nessun tornaconto cioè fare le cose non perché in fondo per me ma fare le cose per dare la felicità a altri sapete che significa creare tra due persone che si amano un circolo virtuoso lui lui si dona totalmente a lei e lei si dona totalmente a lui questo è un circolo virtuoso terribile divino possiamo dire ecco il fatto che ognuno cerca il bene dell'altro ognuno è al servizio dell'altro ognuno vuole fare felice l'altro e così scambiarsi l'amore imparare ad amarsi in effetti sul modello della Santissima Trinità se vi sembra troppo alto pregamo Signore perché in fondo la felicità sta proprio nell'amore autentico ecco l'unica cosa che realizza veramente l'uomo è amare in verità diceva Benedetto XVI amare in verità non amare a modo mio amare secondo i miei schemi amare secondo le mie esigenze amare nella verità ecco la verità è Gesù che ce la rivela quindi la nostra morale non è fondata sulla nostra soddisfazione sui nostri sulle nostre esigenze le mie le mie idee la nostra morale è fondata sul sulla possiamo dire sulla verità e la carità di Gesù Gesù è il modello dell'uomo nuovo vedete per noi l'uomo vero è Gesù e Gesù rivela l'uomo all'uomo cioè Gesù quando noi viviamo per Gesù poi capiamo alla luce della sua sapienza chi siamo noi veramente altrimenti ci illudiamo e ognuno in fondo è schiavo di se stesso e va avanti come può allora questo è un argomento vi dicevo un po' impopolare chi lo può evitare questo discorso che ho fatto oggi lo evita perché dice mamma mia è un po' un po' così parlare di purezza parlare ecco di un retto uso di tutta l'affettività la genitalità la sessualità è come per dire metterla a servizio del bene e noi stessi considerarci servi del bene servi dell'amore mai protagonisti dei nostri delle nostre esigenze come per dire io 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 ma fare in modo che il nostro io sia sottomesso all'amore all'amore di Dio quindi sono le 5 e mezzo ecco le 5 e 31 celebriamo la Santa Messa grazie a tutti